Vaccini stamattina, prime dosi ai bambini, Molise 250 si sono prenotati nel primo giorno, si parte dai Serni, al Cardarelli intanto muore un paziente in rianimazione, era vaccinato ma ricoverato per altre gravi malattie, nello stesso reparto c'è anche un dimesso. L'invalidità, commissioni sotto accusa, il Movimento 5 Stelle all'attacco sulla gestione, meccanismo lento e costoso, dicono i consiglieri, i cittadini convocati anche dopo essere morti. Lucano a Campobasso difende il modello Riace, l'ex sindaco condannato a 13 anni è arrivato in Molise per parlare della sua vicenda giudiziaria e dell'accoglienza ai migranti, da lui parole di stima e affetto per Bregantini. Un albero di Natale per adottare un cane, gli studenti della scuola Dovidio di Campobasso lanciano la singolare iniziativa, l'obiettivo è quello di sensibilizzare le persone sul tema degli animali abbandonati. Campobasso a Potenza, scontro diretto, domenica l'ultima gara del girone di andata con il Rosso Blu che in Lucania affrontano una delle concorrenti alla salvezza. Pallo a volo e calcio a 5 nel weekend, le ultime gare del 2021. Buon pomeriggio dalla redazione di Terremolise. Dunque apriamo con l'andamento della pandemia perché è salito a 508 il numero delle vittime del Covid in regione. Nella serata di ieri un uomo di Colli al Volturno che era ricoverato in terapia intensiva al Cardarelli è deceduto. Il paziente ultrasettantenne aveva contratto il Covid, era anche vaccinato ma era in rianimazione a causa di altre gravi patologie, tra l'altro non respiratorie. Nelle ultime ore intanto un altro paziente che si trovava sempre in terapia intensiva è guarito dal Covid ed è stato quindi dimesso dal Cardarelli e trasferito in un centro di riabilitazione a Isernia. Scende così da 4 a 2 il numero dei pazienti che si trovano in rianimazione nell'ospedale di Campobasso. Per quanto riguarda il bollettino delle ultime 24 ore, lo vedete, ci sono 10 nuovi casi su 407 tamponi con un tasso di positività al 2,4%, due guariti, un dimesso da malattie infettive. Scende così a 9 il numero dei ricoverati al Cardarelli. Avete sentito nei titoli l'altra notizia del giorno sul fronte del Covid e il via alle vaccinazioni dei bambini. Stamattina le prime somministrazioni sono avvenute a Isernia. Per noi c'era Barbara Fino, vediamo com'è andata. Si sente tranquilla? Sì, tranquillissima, tranquillissima. È una grande opportunità questa, sia per la salute, sia per, diciamo, possono riprendere la vita normale, tra virgolette, perché con questo periodo in cui, ecco, escono da un bruttissimo periodo la DAD, attività sociali ridotte al minimo. Le somministrazioni per i più piccoli prendono il via in tutta Italia e questa mattina anche a Isernia molte famiglie si sono ritrovate al centro vaccinale Largo Capuccini con i loro bambini per la prima dose di vaccino. Nessuna perplessità o paura da parte dei genitori, solo la speranza di uscire al più presto dalla pandemia e di non dover vedere più i bambini rinchiusi in casa davanti a un pc con la didattica a distanza. Non vedevo l'ora, siamo tutti vaccinati in famiglia, mancava solo mia figlia che ha nove anni. I bambini soffrono troppo a stare in DAD. Siamo speranzosi che questo vaccino possa aiutarci. Le regioni si sono attrezzate quindi per la partenza delle vaccinazioni nella fascia 5-11 anni che avrà percorsi dedicati e la collaborazione dei pediatri. Le somministrazioni avvengono in base alle prenotazioni effettuate direttamente dalla piattaforma dedicata. Mi è stato molto semplice fare la prenotazione fatta ieri e oggi siamo qui. Non avendo tutti il vaccino si rischia comunque il diffondersi della malattia per cui credo che sia dovere del cittadino e del genitore ovviare a questo grande problema. I primi bambini esernia si sono vaccinati quindi questa mattina con il sorriso sulle labbra consapevoli del significato della vaccinazione ma soprattutto senza alcuna paura. Tutto bene, mia figlia era tranquillissima, addirittura rideva. Non ha sentito dolore e io sono contenta. Siamo pronti per fare questa vaccinazione oggi? Sì, molto pronto. Ti hanno spiegato tutto mamma e papà, anche cosa consiste? Sì, mi hanno spiegato tutto. Perché si fa il vaccino? Per prendere più in forma leggera al Covid. Dunque parte questa nuova fase con le vaccinazioni dei bambini. Adesso vediamo i numeri di questa nuova fase. In Molise nelle prime 24 ore sono arrivate 250 prenotazioni mentre sono 10 gli hub vaccinali che sono stati predisposti sul territorio regionale. Sentiamo Tonino Danese. Oggi al Via in Molise le vaccinazioni per i bambini della fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. In tutta la regione sono 15.000 circa. Sul sito adesioni vaccinazioni covid.regione.molise.it la sezione è dedicata per prenotarsi nei centri hub che sono 10 al momento, come fatto sapere dall'ASREM. In una sola giornata 250 le prenotazioni per i bimbi della fascia di età considerata accompagnati dai genitori e scaglionati le vaccinazioni sono possibili come stabilito dall'azienda sanitaria regionale il giovedì dalle 9 alle 13 all'ambulatorio ASREM a Isernia in Via dei Cappuccini e ai poli ambulatori di Boiano e Frosolone. Il venerdì sempre dalle 9 alle 13 nell'ambulatorio vaccinale ASREM in Via Toscana a Campobasso. Agli ex ospedali di Termoli in Via del Molinello e di Venafro in Via Colonia Giulia. Domenica all'ospedale di Campobasso dalle 9 alle 19. Infine i bimbi dai 5 agli 11 anni possono vaccinarsi il martedì dalle 9 alle 13 alla Casa della Salute di Riccia e alla Sala Consiliare del Comune di Agnone dalle 15 alle 19 al Palairino di Termoli. Dall'ASREM i vertici fanno sapere che comunque ci saranno iniziative dedicate e si lavora continuamente per ampliare il numero degli hub sul territorio destinati alle somministrazioni ai più piccoli. avvalendosi della collaborazione anche dei pediatri. L'obiettivo è vaccinare il più ampio numero di soggetti perché il vaccino è l'arma più efficace contro il Covid. Le raccomandazioni sono sempre quelle di continuare a rispettare tutte le disposizioni anticontagio. Una notizia di cronaca non ce l'ha fatta. L'anziano di 92 anni investita da un furgone che stava effettuando una manovra in retromace il 19 novembre scorso in via Alfano a Termoli. Vedete la foto di quell'incidente. La donna fu subito soccorsa dall'autista del mezzo in ambulanza trasferita al San Timoteo. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Ora la procura dovrà decidere quali accertamenti medico-legali far eseguire sulla salma dell'anziana per stabilire le cause della morte. La donna subì un trauma cranico con ferite sui più parti del corpo. Il fascicolo è in mano alla PM. Laura Toncini. Lente e costose sono le commissioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità. Costano 800 mila euro all'anno. Funzionano male con cittadini in attesa convocati addirittura dopo il decesso. La denuncia arriva dal Movimento 5 Stelle che ha presentato in Consiglio regionale una mozione approvata all'unanimità che chiede di spostare le competenze all'Inps. Per parlare di questo ci colleghiamo con il Consiglio regionale dove c'è Pasquale Di Bello e quello qua lo vedo inquadrato con un ospite che è il primo firmatario di questa mozione, il consigliere Primiani. A te la lì. Sì Enzo, ci troviamo in Consiglio regionale insieme ad Angelo Primiani del Movimento 5 Stelle. Primiani ha presentato una mozione che è stata discussa nell'ultimo Consiglio regionale e votata all'unanimità relativa alle commissioni regionali chiamate a giudicare lo stato di invalidità dei cittadini. Cosa succede? Intanto un costo enorme, 800 mila euro all'anno per il funzionamento di queste commissioni, ma dei ritardi lunghissimi. Si parla di 12-15 mesi per l'ammissione all'esame con il paradosso di cittadini, di pazienti convocati e ormai deceduti. Allora arriva dal Movimento 5 Stelle, da Primiani, ma è stata adottata dall'intero Consiglio, una proposta di carattere diverso. Allora Primiani, di che cosa si tratta? Sì, parliamo di una mozione approvata all'unanimità che vede intervenire sulle commissioni per il riconoscimento delle invalidità. In pratica oggi in Molise esistono delle commissioni chiamate a riconoscere e a valutare l'invalidità su alcuni cittadini molisani. Queste commissioni, che hanno un costo annuo di 800 mila euro sul bilancio regionale, sono caratterizzate da un'alta inefficienza. Parliamo di tempi dilatatissimi, infatti dall'atto della richiesta da parte di un cittadino molisano possono passare addirittura 15 mesi fin tanto che venga effettuata la visita. È accaduto e ci è stato segnalato di alcuni cittadini convocati quando ormai erano deceduti. Tutto ciò è inaccettabile se consideriamo anche che a fronte di questa inefficienza c'è un costo elevatissimo sul bilancio regionale. La proposta mia e del Movimento 5 Stelle è quella di affidare questo servizio a chi già lo eroga direttamente, ovvero all'Inps, questo permetterebbe un risparmio sulle casse della regione molise di circa 250 mila euro annui e potrebbe sicuramente migliorare l'efficacia degli interventi. Ad oggi non è accettabile che si impieghi tutto questo tempo per riconoscere l'invalidità a cittadini molisani anche alla luce del fatto che parliamo di cittadini che hanno già problemi di salute e problemi fisici. Insomma un'attenzione rivolta verso i meno abbienti, i più bisognosi e ci lascia besperare il fatto che la mozione sia stata approvata all'unanimità dall'intera aula. Ora Toma, in qualità anche di commissario alla sanità, deve dare seguito a questa mozione e intervenire immediatamente per risolvere il problema. Bene, considerando che la popolazione del Molise è in buona parte costituita da anziani ci si aspetta adesso che vengano poste in essere le azioni conseguenziali per dare un deciso miglioramento a questo servizio importante. Dal Consiglio regionale è tutta a voi la linea. Grazie Pasquale, grazie anche al tuo ospite. Noi parliamo ancora di sanità con una richiesta fatta a Toma Florenzano con una nota dal segretario regionale della FIALS Carmine Vasile. Chiede risposte immediate relative all'approvazione del piano triennale 2021-2023 dei fabbisogni di personale dell'azienda sanitaria sulla proroga al personale assunto a tempo determinato e sulla stabilizzazione dei lavoratori a partita IVA impiegati nelle strutture sanitarie per l'emergenza Covid. La richiesta ha seguito di specifiche mozioni recentemente approvate all'unanimità dal Consiglio regionale. risposte, sottolinea ancora Vasile, che dovranno essere fornite entro il prossimo 21 dicembre. In mancanza di riscontri, il sindacato si vedrà costretto suo malgrado a organizzare un nuovo presidio davanti alla giunta regionale. Adesso andiamo in Prefettura Campobasso dove questa mattina si è tenuta la tradizionale cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica italiana andate quest'anno a 13 cittadini molisani. Per noi c'era Anna Maria Di Matteo. 13 cittadini molisani sono stati insigniti delle onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica italiana. La cerimonia si è svolta in Prefettura Campobasso alla presenza delle massime autorità della regione. È una bella giornata questa che viene poco dopo, pochi giorni dopo, la consegna di altre onorificenze ai maestri del lavoro. E quindi è una bella giornata perché testimonia come tanti figli di questa terra si impegnano e vengono riconosciuti. Viene riconosciuto il loro attaccamento al lavoro, viene riconosciuto il loro senso dello Stato, viene riconosciuta la loro etica del lavoro. Quindi è una bella giornata. Signor Donatelli, un riconoscimento importante se l'aspettava? Veramente no, per essere chiara, però con vari anni di impegno effettuato presso molto volontariato e quindi onorato di questa onorificenza e vorrei aprire e dedicarla a tutti i miei amici e varie persone che si dedicano al volontariato perché nel Molise ci sono varie persone che danno una mano per il volontariato. Ecco, quindi la motivazione di questa onorificenza è proprio qui. Qual è? Diciamo che la maggior parte è per il volontariato che è da 30 anni che mi occupo di volontariato e ultimamente per quanto riguarda l'AISM, l'Associazione per la Sclerosi Multipla, sto riorganizzando per riaprire una sezione qua su Campobasso ed impegnarmi come ho sempre fatto da 30 anni. Cosa rappresenta per lei questa onorificenza? È molto importante, sono molto orgoglioso e certamente, ripeto, non mi aspettavo di questa onorificenza così importante. Signor Mario Ianieri, che cosa rappresenta per lei questa onorificenza? È un'onorificenza che ho l'orgoglio di ricevere non solo a nome mio ma anche a nome di tutta la mia associazione che rappresenta, l'AVIS, donatore di sangue, di termoli e anche di tutto il Molise. È un impegno che ho profuso in tanti anni per la donazione, per la sensibilizzazione dei giovani alla donazione e penso che ci siamo riusciti alla grande. Ecco, quindi il vostro obiettivo lo state centrando? Sempre più gente si avvicina? Perfetto, sì, abbiamo garantito l'autosufficienza ematica alla nostra regione e un gran fiore all'occhiello per tutto il mondo della donazione italiana. A chi dedica questa onorificenza? Io l'avrei voluto dedicare a mia madre, se era ancora viva e morta una settimana fa, con grande rammarico, la penso sempre, lo sembra nel cuore. Però in questa occasione vorrei dedicarlo a un mio carissimo amico che proprio ieri è stato operato al cuore e ce l'ha fatta. Sta in corsia, si sta riprendendo e spero di riabbracciarlo quanto prima. Una sentenza destinata a diventare un precedente di rilievo nazionale è la decisione del Consiglio di Stato che poche ore fa ha riammesso alle elezioni provinciali di Isernia la lista del centrodestra. Il ricorso era patrocinato dagli avvocati Papa e Scarano. Vediamo questa intervista via Skype realizzata da Enzo Di Gaetano. Siamo in collegamento con l'avvocato Giacomo Papa per un commento della sentenza del Consiglio di Stato che ha riammesso la lista del centrodestra alle elezioni provinciali di Isernia. Una bella soddisfazione, avvocato? Sì, sicuramente sia per me che per il collega Stefano Scarano è stata una vittoria importante anche perché era una questione giuridica molto complessa in relazione alla quale peraltro il Tar sembrava aver aspettato più la tesi dell'ufficio elettorale provinciale, tesi che a noi non convinceva proprio sulla base di quelli che erano gli orientamenti del Consiglio di Stato ed infatti il Consiglio di Stato poi ha riformato la decisione. Una bella sentenza che mi sembra stabilisca un principio fondamentale per la democrazia. In fondo non sono tanto importanti le formalità quanto la sostanza e dare la possibilità di partecipare al voto, giusto? Esattamente, innanzitutto è prevalso il principio della favor partecipationis soprattutto in un contesto in cui come quell'oggetto del ricorso non era chiaro il motivo per cui le operazioni che erano comunque iniziate prima delle ore 12 poi si erano terminate dopo le ore 12 e comunque dopo pochi minuti perché in realtà si discuteva proprio di questo. Secondo noi le operazioni erano iniziate in tempo e quindi non c'era stata alcuna violazione del termine finale. Secondo invece l'ufficio assumeva rilevanza il termine finale dell'ultimazione dell'operazione o comunque non assumeva rilevanza il deposito del segno. Ecco, sono queste le varie questioni giuridiche importanti che sono state definitivamente affrontate dal Consiglio di Stato e risolte. Una sentenza che farà, diventerà un precedente, chiaramente, importante insomma. Sì, sicuramente è un precedente anche perché la motivazione è una motivazione molto copiosa nel senso che il Consiglio di Stato si è affermato a lungo sui vari aspetti che erano stati sollevati sia da noi sia chiaramente dalla difesa di controparte. Quindi ecco è stato ribadito il principio della power participationis quindi soprattutto in un contesto diciamo di democrazia come quello attuale e soprattutto è stato affermato il principio che in un rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione non deve essere il cittadino a fornire la prova della legittimità del proprio comportamento ma semmai la pubblica amministrazione quando e se contesta una relazione di una norma dovrebbe dimostrare che effettivamente c'è stata questa relazione. Ieri sera è arrivato a Campobasso Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace ha parlato della sua vicenda giudiziaria, di accoglienza e di aree interne durante l'incontro nella sede della Curia del capoluogo ha avuto parole di stima e affetto per Monsignor Bregantini. Vediamo. Nei prossimi giorni arriveranno le motivazioni della sentenza che il 30 settembre scorso ha condannato Mimmo Lucano a 13 anni di carcere l'ex sindaco di Riace con i suoi avvocati lavora in vista del processo d'appello e in attesa di questa nuova fase della sua vicenda giudiziaria è arrivato a Campobasso per parlare di accoglienza come occasione di rinascita per le aree interne sempre più a rischio sopravvivenza a causa dello spopolamento Lucano nell'incontro insieme al direttore del Bene Comune Antonio Ruggeri all'arcivescovo Giancarlo Bregantini cita una per una tutte le accuse che gli sono state contestate punto per punto le smonta spiega di avere fatto solo cose spontanee di fronte a persone in difficoltà lo fa ricordando che il modello Riace mosse i suoi primi passi quando in Calabria c'era proprio Monsignor Bregantini ricorda il grande incoraggiamento che riceveva dal Vescovo il ruolo fondamentale di quest'ultimo nella sua vita e infine la scelta di Bregantini di andare a testimoniare senza esitazioni al processo a carico di Lucano non ho fatto reati, non mi sono arricchito dice ancora davanti alla platea della sala Celestino V della Curia l'accoglienza per me è stato un fatto spontaneo un impulso dell'anima quando ci sono delle persone che hanno evidenti situazioni di difficoltà e quindi è un fatto normale istintivo non c'è bisogno di fare ragionamenti questo è stato il primo livello poi nelle aree, nei paesi dove si perdono le speranze per immaginare un futuro possibile è normale che poi diventa strategia diventa capire come può addirittura essere la soluzione dei problemi dello spopolamento, del declino demografico della perdita dei servizi e anche della forte rassegnazione sociale che costringe le comunità a non avere nessuna speranza per il futuro Lucano a Campobasso parla anche degli avvenimenti degli ultimi giorni e dell'ex prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari che si è appena dimesso dall'incarico di capo dipartimento di immigrazione del Viminale dopo il coinvolgimento della moglie in una indagine sul caporalato lui ha avuto secondo il mio punto di vista un ruolo centrale nella denigrazione di quello che avveniva a Riace non ha mai chiesto o è venuto per conoscere qualcosa che i precedenti prefetti di cui erano entusiasti allora anche nelle criticità ci doveva essere un accompagnamento un tentativo di risolverle e non addirittura che poi diventa una questione giudiziaria che mi distrugge la vita ma la vita nel senso morale ancora non sono riuscito a distruggermela e ci sono tanti punti oscuri in questo agire così con una avversione la storia non è finita cambiamo argomento il sindaco di Agnone Daniele Saia ha comunicato che gli interventi di dei sargeri torneranno ad essere svolti all'ospedale San Francesco Caracciolo a partire da gennaio infatti sarà possibile svolgere gli interventi chirurgici in un giorno prestabilito della settimana tale possibilità detto rappresenta un importante passo in avanti per tutti i cittadini di Agnone e anche quelli dei territori limitrofi al Caracciolo ha invece aggiunto il governatore commissario Toma dal 1 gennaio verrà garantito un turno di anestesia e rianimazione questo provvedimento adottato da ASREM di concerto con la struttura commissariale regionale ha concluso Toma consentirà appunto l'attivazione di sedute di dei sargeri e adesso una notizia che è arrivata nella tarda mattinata di oggi la cerca e la cavatura del tartufo riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'UNESCO per la nostra regione ha commentato l'assessore Cavaliere è un'opportunità epocale il servizio tra le eccellenze della gastronomia molisana c'è il tartufo nero in particolare bianco che ci pone tra i massimi produttori di questo fungo pregiato è arrivato il riconoscimento tanto atteso l'UNESCO ha riconosciuto la cerca e cavatura del tartufo patrimonio culturale immateriale dell'umanità un'ottima notizia è stato il commento della sottosegretaria alla cultura Lucia Bergonzoni con questa iscrizione ha aggiunto sargono a 15 gli elementi italiani che fanno parte del patrimonio culturale immateriale dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO per l'Italia e per il Molise è un giorno speciale è una data da ricordare ha detto l'assessore regionale Nicola Cavaliere una delle nostre più grandi eccellenze ha ricevuto il giusto riconoscimento a livello mondiale per la nostra regione ha continuato si tratta di un'opportunità epocale su questo prestigioso e storico traguardo dobbiamo ora essere tutti bravi a costruire qualcosa di importante dal punto di vista commerciale, turistico, sociale e culturale nel novembre del 2019 era stato proprio Cavaliere a consegnare di persona all'allora ministra Teresa Bellanova una lettera nella quale si chiedeva l'interessamento del Dicastero sul liter amministrativo per il riconoscimento UNESCO iniziativa concordata con l'Associazione Nazionale Città del Tartufo questa è una vittoria che nasce dal gioco di squadra ha aggiunto l'assessore dalla capacità di realtà diverse di fare rete a sostegno di un'unica identità dal Ministero della Cultura hanno sottolineato che si tratta della prima candidatura nazionale del patrimonio immateriale che rappresenta il tema della biodiversità culturale come fattore chiave per identificare un elemento capace di unire ai tratti storici ed antropologici millenari l'interdipendenza tra uomo e natura nei diversi habitat naturali e territori evocati una rete che unisce circa 70.000 tartufai 14 regioni italiane e numerosi comuni anche di aree interne la giunta regionale ha deliberato un finanziamento di 360.000 euro per i lavori di ripristino dell'area vicino al Castello Pandone di Venaforo da oltre 10 anni in uno stato di totale abbandono con lavori iniziati e mai ultimati l'intervento prevede il completamento e il ripristino della viabilità intorno al Castello possiamo dire che con questo finanziamento regionale ha commentato l'assessore Vincenzo Cotugno si mette la parola fine ad un'opera incompiuta finita nel degrado e che offendeva da anni la città di Venafro l'auspicio è che dopo aver individuato e stanziato le somme per i lavori di recupero dell'intera area il cantiere ha concluso Cotugno possa riaprire al più presto e adesso un singolare albero di Natale quello dedicato al fatto di poter adottare un cane che è stato realizzato dagli studenti della scuola media Dovidio di Campobasso sentiamo Alessandra Potena adottare un cane è un gesto d'amore che vale più di qualsiasi altro regalo di Natale perché il Natale è per tutti anche e soprattutto per quei cani che sono stati abbandonati cercano casa, affetto e coccole ed è proprio all'adozione che hanno pensato gli studenti della scuola media Dovidio di Campobasso un'idea che si è trasformata in un albero di Natale sui generis non palline ma foto dei cani del canile di Santo Stefano in cerca di un posto in cui stare quest'anno la classe seconda B di questo istituto ha pensato di essere più solidale a Natale si è sempre più buoni e hanno pensato di fare un albero di Natale dedicato ai cani del canile di Santo Stefano e hanno creato questo albero l'hanno fatto tutto da soli quanto è importante sensibilizzare i ragazzi? nella scuola tantissimo la formazione scolastica non è soltanto la didattica non è soltanto lo studio sui libri è importante educare i ragazzi alla solidarietà all'altruismo all'inclusione i giovani studenti fin da subito hanno mostrato grande interesse e sensibilità impegnandosi per la buona riuscita del progetto a noi piacciono tantissimo i cani io a me come a tutta quanta la classe e quindi proprio per aiutare il canile abbiamo pensato di realizzare l'albero che speriamo di sensibilizzare qualche cuore delle persone che stanno vedendo questo servizio e speriamo nell'adozione di qualche cane secondo voi le persone risponderanno in maniera positiva? speriamo di sì non si sa però comunque abbiamo una riserva salvadanaio e abbiamo raccolto una quota abbastanza positiva gioia e soddisfazione per le volontarie del canile di Santo Stefano alle quali i ragazzi hanno consegnato un salvadanaio a forma di osso con il denaro raccolto questo per dare un contributo all'associazione che da anni si prende cura dei cani loro sono stati bravissimi davvero di cuore è importantissimo sensibilizzare le persone all'adozione nel canile abbiamo circa 250 cani che aspettano una famiglia e purtroppo alcuni di loro non saranno mai visti da nessuno quindi invitiamo tutti a venire nel canile a conoscere i cani portarli a fare una passeggiata dargli una carezza è una cosa necessaria per il loro benessere mentale diciamo più che altro l'appello dunque accogliere in casa un cane bisognoso di amore e adesso andiamo invece a Montenero di Bisaccia dove l'avvocato e politico Teresio Di Pietro ha dedicato un libro al suo paese da 50 anni la voce è un vero e proprio contenitore culturale di testi e foto dove ognuno può ritrovare un ricordo ce ne parla Andrea Nasillo avvocato di professione sciomene politico per passione montenerese nel DNA Montenero di Bisaccia non è solo il suo paese è il suo grande amore a Montenero Teresio Di Pietro ha dedicato il libro da 50 anni la voce un timbro inconfondibile la sua espressività mai banale e la sua capacità di coinvolgere Teresio Di Pietro insieme alla scrittrice Laura D'Angelo al sindaco Simona Contucci e alla giornalista Antonella Salvatore al cospetto di una nutrita platea di amici molti anche politici ha presentato un libro che rivive con i testi e con tantissime foto in momenti di mezzo secolo Teresio ha detto il sindaco Simona Contucci è un artista dal gran gusto ha sempre incarnato lo spirito della nostra comunità ha dato tanto a Montenero in questo libro tutti possono trovare un ricordo non politico non showman ma oggi soltanto un amante di Montenero questa mia pubblicazione a cui devo tantissimo alla carissima Laura D'Angelo con cui abbiamo lavorato a quattro mani non è altro che un omaggio alla mia Montenero perché è il racconto di 50 anni di storia di tradizioni di costume di manifestazioni presentate ideate fatte da me e che ho anche un pizzico di emozione io che sono anche come hai detto showman fino a un certo punto sono abituato ai microfoni oggi mi sento un po' emozionato perché è come se stessi facendo un bilancio consuntivo di solito in politica si fanno i bilanci preventivi con un bilancio consentivo della mia vita della mia vita sociale il libro non è in vendita durante la serata di presentazione più di qualcuno ha voluto fare la propria offerta il ricavato di circa 850 euro infatti è stato devoluto all'associazione di Montenero una mano per la vita il mio libro consta di tante testimonianze io voglio ricordare la frase che ha scritto mio figlio in cui mi dice in tanti anni mi ha accompagnato nello spettacolo della vita e te ne sono grato c'è un'altra frase di una mia carissima carissima amica che dice che quello che un giorno era il dispetto oggi è diventato rispetto io mi auguro che il rispetto lo si abbia nei confronti di tutti bene noi abbiamo concluso vi lascio alle previsioni del tempo poi alle notizie sportive ci vediamo tra mezz'ora per il TG Flash delle 15 a più tardi buon pomeriggio a più tardi